Io lavoro per il programma albanese della Radio Vaticana in una radio che ha più programmi in lingua. Ma alla Radio Vaticana dire che l'italiano è un plus valore ti guardano come se vuole ricordarti che questa è una cosa ovvia, anche perché è vero che la lingua ufficiale della Chiesa è il latino, ma a partire dal Papa ai Cardinali e all'ultimo inserviente del Vaticano tutti sanno l'italiano, ovviamente, e lo parlano e scrivono e ci sono dei documenti della Chiesa ovviamente in italiano. Quindi vuoi perché il Vaticano è in Italia, anche se gode di extraterritorialità, vuoi perché la maggior parte delle università pontifice sono a Roma e prima o poi i preti e le suore ci passano, insomma, per lo studio, per l'aggiornamento e quant'altro, l'italiano è, per la verità, la seconda lingua parlata diffusamente nella Chiesa. E alla Radio Vaticana? Beh, la Radio del Papa, adesso ce lo faranno vedere, parla in 37 lingue e usa 11 alfabeti diversi. Ma la lingua italiana, ovviamente, è annoverata tra le sue lingue principali. C'è un canale dedicato che trasmette 24 ore su 24 in italiano, iniziato come esperienza romana, ma ampliato man mano con il desiderio di coprire tutto il territorio nazionale. C'è il radiogiornale internazionale, il lingua italiana, più volte al giorno, che alimenta con notizie e approfondimenti in questa lingua, non solo lettere, ma anche l'internet, youtube, altri siti come news.va, che magari i colleghi giornalisti conoscono meglio, e anche gli altri programmi della Radio Vaticana in altre lingue, perché noi molto spesso, anche io come programma albanese, prendo notizie dal programma italiano, italiano che magari ha più esperti da contattare. Per esempio, nel caso albanese, la chiesa albanese è risorta da 20 anni, quindi non ha questi grandi teologi o esperti culturali da poter contattare e intervistare. Quindi molte delle interviste provengono dagli esperti del programma italiano. Però facciamo un po' di storia, anche perché mi sono resa conto, poi parlando con i miei colleghi giornalisti, che la Radio Vaticana si conosce, sì, ma fino a un certo punto. La Radio Vaticana nasce in lingua latina. La stazione Radio Vaticana, così si chiamava allora, fu costruita da Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, che si prestò con dedizione ammirabile, fu inaugurata da Pio XI con un radiomessaggio in latino, il 12 febbraio 1931, e nata soprattutto come strumento efficiente di comunicazione al di là di ogni confine, segno di indipendenza spirituale al di sopra di ogni parte. Ma subito parlò in nove lingue, tra cui l'italiano appunto. Nell'immediata vigilia della Seconda Guerra Mondiale, nell'estremo e purtroppo vano tentativo di evitarla, raccontava padre Pasquale Borgomeo, già direttore generale della Radio Vaticana, Pio XII, attraverso le antenne della Radio Vaticana, lanciava ai governanti, ai popoli, il suo disperato appello. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Era il 24 agosto 1939, una settimana dopo, l'esercito tedesco invadeva la Polonia ed era la guerra. E mentre l'Europa andava a fuoco, la Radio Vaticana, superando frontiere, propaganda e odio, iniziò un'opera umanitaria che sarebbe durata fino al 1946, la trasmissione di messaggi da parte di famiglie combattenti, prigionieri, dispersi, senza distinzione di parte. Ricordo a chi non lo sa che molte famiglie si riunirono, veramente sentendo i messaggi trasmessi dalla Radio Vaticana, sempre in italiano. Dopo la folia della Seconda Guerra Mondiale, ne iniziò un'altra, per certi aspetti ancora più acuta, la folia della Guerra Fredda. E la Radio Vaticana aprì verso l'Est, anche se i polacchi, gli ucraini e i lituani già parlavano dai suoi microfoni. Senza dilungarmi sull'impegno della Radio Vaticana verso l'Europa dell'Est, oggetto questo di una precedente conferenza della comunità radio-televisiva italofona, passo agli anni recenti dopo la caduta della Cortina di Ferro. Se fino a quel momento era stato importante parlare a ciascuno nella propria lingua, adesso occorreva far respirare l'Europa con tutti e due i polmoni. E qui iniziamo a ragionare sull'italiano come plus valore. I paesi intorno all'Italia, specialmente quelli balcanici, per ragioni storiche o altro, hanno una popolazione che conosce la lingua italiana, a volte imparata seguendo di nascosto la RAI, con il rischio di finire in prigione per agitazione e propaganda, come poteva succedere per esempio in Albania, dove per un certo periodo, sempre durante il comunismo, avere un libro o imparare una lingua straniera al di fuori del russo era considerato un atto sovversivo, punibile. Ad ogni modo, vuoi per desiderio, vuoi per ribellione, vuoi perché insegnata dai genitori, che erano parte della minoranza italiana nel paese, la lingua era abbastanza conosciuta e la radio vaticana, che si era prefissata di contribuire all'avvicinamento dei popoli, non poteva non approfittarne. Nascono così i programmi post-guerra nei Balcani, con l'impegno delle sei redazioni dell'Aria. Si chiamavano non solo Balcani e poi, dopo il patto di stabilità per i Balcani, l'avvicinamento dei paesi dell'Aria verso l'Unione Europea, lo stesso programma cambiò nome in Europa senza muri, proprio per marcare il desiderio di superare altre barriere dopo la caduta del muro di Berlino. Come abbiamo avuto modo di presentare nella conferenza della comunità italofona che si svolse a Tirana, quella fu un'esperienza gratificante che fece crescere anche noi, giornalisti dell'Aria Balcanica, con la stessa eredità culturale di un greco e di un turco oppure di un ungherese o un rumeno, di un albanese o di un serbo che si incontravano per la prima volta nei nostri studi a discutere in italiano sui problemi di casa nostra e a proporre delle soluzioni che partivano dalle nostre storie comuni. Fu utile anche porre delle questioni dal punto di vista balcanico, tramite interviste e notizie dalla zona, per vederle poi prese in considerazione e portate alle sedi competenti istituzionali europei. Altra esperienza interessante in lingua italiana, ma con un respiro internazionale, secondo me è questo il plus valore che ha l'italiano nella Radio Vaticana, è stata quella di 105 Live, un canale di 24 ore in diretta che continua a trasmettere anche oggi in lingua italiana trasformandosi in Radio Vaticana Italia. Iniziò come canale in italiano, inglese, francese e spagnolo durante l'anno giubilare 2000, indetto da Giovanni Paolo II, e il suo compito era di parlare principalmente ai pellegrini e alle genti di Roma, perciò trasmetteva in FM per la capitale o in onda media per il Lazio. L'idea di servizio che ha sempre accompagnato la Radio Vaticana dalla nascita è stata la base sulla quale i redatori davano notizie sull'attività del giubileo, traducevano in interviste e meditazioni le parole del Papa ai temi principali che interessavano la Chiesa dell'epoca in italiano per tutti i pellegrini che ci avevano la rodiolina allora distribuita, diciamo, per l'occasione. Una volta finito il giubileo 2000, l'esperienza continuò nello spirito del servizio, diventando sempre più italiana. Adesso il canale si chiama Radio Vaticana Italia e trasmette non solo su FM 105, ma anche in digitale, coprendo per il momento 65% del territorio italiano, italiano, ma con l'idea di ampliare ulteriormente. Ormai concepito come un flusso continuo, il canale cerca di tradurre in attualità temi del Magistero del Papa e della Dottrina Sociale della Chiesa. Ma forse è il caso di fare qualche esempio dei programmi che hanno transitato in questo canale e che tuttora vengono trasmessi da esso. Scelgo consapevolmente dei programmi che anche se in lingua italiana avevano quel plus valore di cui stiamo parlando in questa conferenza, proprio perché non parlavano soltanto agli italiani. Uno è stato quello dedicato agli immigrati, e qua mi rifaccio a quello che diceva Ijabba. A partire dal giubileo 2000 fino a 2008, una volta a settimana, la Radio Vaticana trasmetteva Claudia & Co. Allora, Claudia ero io che conducevo il programma e la compagnia erano gli immigrati, le associazioni di volontariato che se ne occupavano e anche le figure istituzionali che davano delle risposte. Il programma poi si tramutò con gli anni in vicini di casa questa Europa che amiamo sopportare, incluse più temi europei. Vorrei far vedere, in italiano se vai, il nuovo sito della Radio Vaticana. Vi do un'anteprima, perché a mezzogiorno padre Federico Lombardi presenterà questo sito dal sede della Radio Vaticana. Questo è un impegno diciamo della lingua in internet, ma anche su Facebook, anche su YouTube, anche sui canali Youku, QQ, Weibo, eccetera, con i quali possiamo arrivare anche in Cina. Questo è il nuovo sito che non vuole essere soltanto dal punto di vista grafico, diciamo diverso dal precedente, ma vuole, diciamo così, strizzare l'occhio ai social network e con questi mezzi diciamo l'italiano certamente diventa un plus valore e forse bisogna anche ripensare cioè in che modo promuoverlo nella misura, secondo me, in cui il valore lo danno appunto i contenuti. Ecco, quindi grazie. Grazie a tutti.